È arrivato il gol numero 16 dal dischetto, è arrivata una gran partita del Pescara nel complesso, sei d'accordo? Sì, diciamo che c'è stata una bella reazione di squadra, siamo venuti con la testa giusta perché non era facile, loro si giocavano nel campionato per non retrocedere, non era una partita facile, non l'abbiamo sottovalutata, abbiamo fatto una grande partita. Tutti gli episodi, andiamo a raccontare Davide, a cominciare dall'espulsione che hai procurato tu, che dove la trattenuta sia stata abbastanza evidente, nulla da dire. Sì, sì, sono sincero, avevo sbagliato lo stop, però per fortuna mi è rimasta subito lì sul piede, volevo continuare ma non ce l'ho fatta perché mi ha tirato giù. Il calcio di rigore è tirato con tanta potenza, hai anche un po' di rabbia? No, no, rabbia no, non c'è da stare nervosi, noi lavoriamo tutti i giorni, ci mettiamo a disposizione del mister, c'è un clima sereno, abbiamo ritrovato un po' di serenità e siamo tranquilli. Tra l'altro con Giorgi Tuniov non c'è neanche stato bisogno di parlare, ti ha lasciato subito il pallone. Sì, sì, c'era scritto che ero io il rigorista, non abbiamo litigato nel nulla. Posso trovare un piccolo neo negativo nella prova di Davide Merola, il Davide Merola che conosce il Pescara in questa seconda parte della stagione, quelle due azioni non le sbaglia, cioè gol fa gol Merola. Sì, quell'azione che ho fatto l'1-2 con Giorgi sul primo controllo mi è rimasta sotto, ho provato a girarla da sotto, poi me l'ha presa, si segna e si sbaglia, capita. Dove deve arrivare questo Pescara Davide? Noi vediamo partita per partita, mancano due partite, cerchiamo di qualificarci al meglio per i playoff e daremo il massimo. Poi daremo il massimo.